ciao cocco ma io non mi chiamo salvi va bene ho capito hai ragione va bene basta che tu stia zitto basta che tu stia zitto devi stare zitto ho bene ti racconto la basaletta di Chirino interrogato dalla maestra maestra è vero che una persona che non fa niente non può essere zitto sì Pierino è vero sì Pierino è vero beh allora devo confessarle allora devo confessarle cosa devi confessarmi non ho fatto i compiti non ho fatto i compiti ciao al prossimo video vi aspettiamo io sto chiamo io e sal eita ciao 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 ciao